Erano le due del pomeriggio e John si apprestava ad uscire di casa. Stavo andando a prendere il pulma. A un certo punto John si ricordò che doveva andare al matrimonio del suo migliore amico. E quindi, salito sul pulman, compra un biglietto per la fermata più vicina alla chiesa. Dopo essere sceso dal pulman, John iniziò a camminare verso la chiesa. Arrivato alla chiesa, vi entrò. Lì la spiacevole sorpresa. Al posto del matrimonio si stava celebrando un funerale.